Dal 2012 diminuiscono gli occupati in Puglia, circa 100.000 lavoratori in meno sino al terzo trimestre di quest'anno. Il dato, quanto mai allarmante, è stato diffuso dalla CGL di Bari nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. Un bilancio, quello tracciato dal sindacato, che fa emergere le conseguenze di una crisi che solo negli ultimi due anni ha provocato la perdita di circa 11.500 posti di lavoro solo nel territorio di Bari. Una platea di lavoratori che va ad aggiungersi ai 20.000 fruitori di ammortizzatori sociali in deroga del capoluogo. Non si può più aspettare, ha dichiarato il segretario generale della CGL di Bari, Pino Gesmondo, ma bisogna agire per salvare tutti questi lavoratori, che assieme alle loro famiglie vedono svanire la loro prospettiva di vita. Inversamente proporzionale è invece il dato relativo alla presenza di stranieri nella provincia di Bari. Secondo le stime della CGL risulta infatti in netto aumento il numero degli immigrati che passano dai 28 mila dello scorso anno agli oltre 32 mila del 2013, di cui oltre la metà sono donne. Quanto al lavoro migranti in agricoltura, il capoluogo conta circa 5.400 migranti che lavorano regolarmente, più del 14% del totale regionale. Dall'analisi condotta dalla CGL risulta invece che ammontano a oltre 471 milioni di euro gli investimenti per lavori non avviati ma già finanziati. Una cifra che fa il paio con i quasi 40 milioni di euro investiti per i lavori sospesi. Soldi che produrrebbero, secondo la sigla sindacale, non meno di 3.500 posti di lavoro, soprattutto nel settore dell'edilizia.